Nel contratto di governo non esiste la questione abitativa e quella del degrado delle case e delle periferie. Con questo incipit si è aperta la manifestazione nazionale contro sfratti e sgomberi organizzata dalle sigle Asia, l'Associazione Inquilini e Abitanti e USB, l'Unione Sindacale di Base. Come nel resto del paese, anche a Campobasso gli attivisti hanno dato vita ad un presidio di denuncia. La scelta è caduta questa mattina sulla prefettura. Tra i temi della forte denuncia anche la circolare Salvini che ha messo in programma 48 mila sfratti nelle case popolari di tutta Italia. Un'accusa precisa, quella dei sindacati a difesa degli inquilini, che senza tanti giri di parole cade sulla testa del governo 5 Stelle Lega. Occorre bloccare questa deriva, ha detto il segretario regionale dell'USB Molise, Sergio Calce. Oggi in tutta Italia l'Asia USB è scesa in piazza sotto le prefetture e i ministeri per ribadire il no agli sfratti e no al decreto Salvini che vuole mettere fuori 48 mila persone in tutta Italia. Ecco perché siamo qui, ribadiamo che da qui a 8 anni, 10 anni ci vogliono meno un milione di case, mentre questo governo vuole sfrattare le persone, vuole cacciare tutti e questo non va bene. Ecco perché ho anche oggi questa protesta. Molise, grazie alla lotta della USB, abbiamo bloccato gli sfratti fino a febbraio. È un primo passo importante. C'è un tavolo aperto con la regione e con lo ACP affinché il nostro obiettivo è quello di abbattere il debito. Perché se non si abbatte il debito, siamo sempre pronti a capo. Arriva l'ufficiale giudiziare, evita lo sfratti e l'inquilino paga. Questo non può essere più. Abbattere il debito, dopodiché si rinizia da capo a pagare in base all'Isee e cercare di trovare una soluzione affinché le persone non vengano sfrattate. In questa regione dove si perde il lavoro, non si riparte con l'economia, ci sono cose gravissime in piedi, si rischia anche di perdere la casa. Questo non è assolutamente possibile. Tra le richieste messe sul tavolo dai sindacati, oltre al blocco degli sfratti e sgomberi, ci sono anche la sanatoria delle occupazioni abitative per emergenza sociale e la richiesta di risanamento degli alloggi pubblici e delle periferie. Richieste che, alla luce dei primi mesi di governo 5 Stelle-Lega, resteranno in evase. Basti pensare al taglio di 28 milioni di euro che il Molise ha subito per via del blocco al bando periferie, quello destinato a dare sistemazione, decoro e dignità alle aree marginali delle città.